Che cazzo ti devo dire? Dai! Come rimaniamo quindi? Quindi possiamo rimanere che io stasera voglio andare in guai... Mai! Il battaglia fa come delle camere! Mai la battaglia non ti vedo! Non ci siamo credo mostri su qualche cosa? Vabbè, l'ora vuole regolare il numero di telefono. Però non ti ho fissa la quale... No, ma non è così, mi sembra lo scherzo. Ti faccio, guarda, puoi impiare. Ma scoppa, scoppa. Questa riflessione, vuote... E quindi, neanche, io questa sera volevo fare una cosa. Ma tu hai avuto? Uno. Alla stella c'hai avuto? No. Mi ha detto Valeria... Alla Villa Pecini, stavo andando là. Ah, c'è? E Giuseppe, non c'è? Giuseppe qui. Caravinti? Caravinti? Non lo so. Non lo so, sono uscito lì, non lo so. Io non lo so. Non c'è? Vabbè, però ora io ci sono andata. Ci sono andata da non c'è la riskazione difference. Però non c'è la risposta, non c'è la risposta... E allora... Grazie.